Purtroppo quello di gettare la sigaretta nell'ambiente non è solo un gesto di malcostume, come dicevamo prima c'è proprio una inconsapevolezza da parte delle persone del danno che fa. Inoltre non c'è una sanzione sociale legata a questo gesto, se pensiamo che ormai il piccolo littering che viene buttato per terra si è ridotto in maniera drastica oltre l'80%, quindi ormai diciamo che non è più nell'uso di nessuno buttare per terra una carta piuttosto che un fazzoletto. Invece sulla cicca non c'è una sanzione sociale per cui è un gesto che è ancora accettato e per questo che purtroppo ne troviamo così tante per terra e non ci dobbiamo dimenticare che non solo quelle che noi buttiamo sulle spiagge finiscono a mare, ma tutte le cicche che buttiamo in strada, nei parchi e specialmente nei tombini che sembrano essere uno dei posascenere preferiti di tutti, invece purtroppo è proprio una strada diretta agli scarichi e quindi al mare.